William Zola torna il Giulio Cesare di Shakespeare, due importanti appuntamenti a Villa Sabucchi 22 e 23 settembre. Sì, 13esima edizione della Torre del Bardo in collaborazione storica con la LAD del compianto Gianni Cordova e presenteremo appunto questo pezzo importante della drammaturgia shakespeariana che è il Giulio Cesare, è un testo di un'attualità molto viva, molto attuale, scusate il bisticcio di parole perché parla appunto sull'apologia del potere, sulla crisi che incute il potere e soprattutto quello che potrebbe essere uno scenario futuribile di sistemi non repubblicani come allora ovviamente e che potrebbero poi sfociare, abbiamo degli esempi nel sud-est asiatico che insomma ci impressionano un pochino. Diciamo che la scelta del Giulio Cesare è un percorso, arriva un percorso, non arriva una tappa intermedia perché è scritta nel 1599 ed è segna per la drammaturgia shakespeariana una svolta, quindi la fine del secolo, all'inizio di un altro secolo, dopo un anno arriverà l'Amleto, dopo arriveranno tutto il canone maggiore, appunto la fase maggiore shakespeariana che porterà al Macbeth, al King Lear, alla tempesta e quindi alle opere più importanti e drammaticamente più significative della drammaturgia shakespeariana. È un omaggio che facciamo anche a Gianni Cordova, mio marito, che ha voluto sempre la cultura come base della prevenzione per la tossicodipendenza e quindi qualunque forma d'arte è sicuramente migliore di ogni altra soluzione come prevenzione chiaramente.